Niente, ormai mi piace parlare di curiosità Non so se forse questo sarà il mio ultimo video riguardo alle curiosità Ma ho un po' paura di sì Quindi direi di partire con queste 25 curiosità Magari in futuro ne farò altre, chi lo sa Il nome dub di Kurama Norito, cioè Michael Balzac È un chiaro riferimento all'ex centrocampista tedesco Michael Ballack Che ha vestito le maglie del Chelsea, Bayer Leverkusen e Bayer Monaco La Raymond B ha come capitano Jude Sharp Ma lui non indossa la fascia da capitano durante la partita finale tra la sua squadra e la Raymond A Il nome dub di Mauro Tadashi, cioè Harold Dudini È ovviamente un riferimento al famoso illusionista R.U.D.I. Bernard si è sempre rifiutato di usare i C.O.S.I. per i suoi scopi Infatti solo Gustav Nikolski, il maggiordomo della famiglia Giri Kanen Ha obbligato i C.O.S.I. a tentare di commettere attentati e castronerie ai compagni dell'Inazuma Japan Prima di pubblicare il primo gioco di Inazuma Eleven Ino aveva scambito i nomi di Jack e Nathan Ma poi ha deciso di dare l'ordine attuale Ritenendoli più affini ai PG coinvolti Riccardo ha due gatti, chiamati Arya e Lute Nella storia originale Mentre nel dub Clef e Libretto Sky Blue ha una vera cotta per Arion Sky ha un pappagallo chiamato Bertie Jack pesa 150 kg Celia era grande fan di Seth Nichols quando era ancora giocatore Quentin è l'unico giocatore della Dragon Link che non ha i capelli bianchi Il nome dub di Kitai Chiban, cioè Jimmy Kirk, è un riferimento al personaggio di Star Trek James T. Kirk E' stato rivelato che Astram Schiller è diventato un influencer del social network che nell'anime è ispirato a Tik Tok Se non ci credete, beh, guardate l'episodio 21 di Orion La brainwashing è l'unico team che dalla serie originale ad Ares cambia il proprio nome Infatti da brainwashing unorike si passa ad anima sana Mark Kruger ed Elon non si vedono mai separati Harley Kane doveva comparire nel film di Griffon ma poi hanno scartato l'idea Todd è l'unico che legge tutti i messaggi dell'ina chat del primo gioco Marvin Mardok è l'unico giocatore ad essere messo in fuorigioco nell'anime Tra le ragazze solo due tra essi hanno giocato in tre ruoli diversi Victoria e Beta Nell'anime viene detto che Ray Dark è stato ucciso da Garshield tramite l'incidente Nel gioco invece viene rivelato che quello era un incidente vero e proprio non commissionato da qualcuno Mentre nell'anime la vista di Julia Kuto verrà solo blurrata Nel gioco invece non riuscirà proprio più a vedere La rabbia saudita di Galaxy è l'unica squadra del Football Frontier International Vision 2 Che non mostra accenni paranormali che implicano gli alieni alla fine del match Nella serie originale Bob e Derek rimangono in America e si diplomano lì Mentre in Orion dopo il finale tornano in Giappone Sempre dopo il finale di Orion si scopre che Todd e Tim si sono cambiati i ruoli Nonostante la Perfect Sparks non sia una squadra fatta da discepoli di Orion Viene considerata comunque molto speciale anche se sempre sotto le pressioni dell'organizzazione Bene queste 25 curiosità ve le ho dette Spero che non siano le ultime nel caso comunque diciamo ciao ciao questa serie dopo 250 curiosità che vi ho fornito In descrizione potete trovare tutti i link al mio gruppo Telegram personale Gruppo del team sempre di Telegram, gruppo Facebook, Twitter, Discord e Instagram Non vi scordate dei link ai miei codici promo di hype e app che magari mi date qualche soldino Mamma mia che money grabber che sono Non vi scordate di passare nei canali di Enzy World e nel Wordpad di Ethern Noi ci vediamo ad un prossimo video Alla prossima da Bjorn Alla prossima da